uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi finalmente qualche novità per quanto riguarda il nostro fortnite è arrivata molto difficile in queste due settimane riuscire a tenervi aggiornati anche perché purtroppo non ci sono notizie ufficiali per quanto riguarda patch notes o comunque aggiornamenti vari del gioco ovviamente siamo tutti in attesa di sapere qualche cosa ma c'è una voce molto molto interessante che si sta espandendo nei vari forum dedicati a fortnite ovvero sia che donald mustard non sia più il capoccione del team di epic games bisogna capire se per caso questa notizia fosse fondata sarebbe la causa della lentezza con la quale epic games ha deciso di far uscire tutti gli aggiornamenti e tutte le patch notes che eravamo abituati ogni due settimane a vedere ovviamente quando avrò qualche informazione la saprete sicuramente anche voi nel video di oggi comunque parleremo del possibile arrivo in questa settimana della patch 11.30 con una nota che ci fa ben sperare ma arriva anche il weekend della champion series le finali delle finali in squadra vi do tutte le informazioni le commenteremo il più possibile insieme vedremo davvero le scintille nel battle royale e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi live dalle 8 alle 18 su twitch grazie mille ragazzi per il vostro supporto e grazie grazie di cuore a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video ma prima io la domandina ve la devo fare ieri abbiamo mandato su il video del tizio che cantava o bella ciao oggi invece torniamo nei nostri classici format domanda molto molto schietta ma secondo te adesso che movement avremmo bisogno nel battle royale dai ragazzi non se ne può più di correre come haidi alle grani boschi tra una città e l'altra la safe che mi insegue se non trovo la barca è un disastro ci sono tutti gli elenchi dei movement che siamo abituati a vedere e che oramai sono solo un vecchio ricordo secondo voi cosa ci serve io sono classico una bella jump perfetta pianti giù te ne vai mi manca la jump mi manca veramente tantissimo fatemi sapere quello che secondo voi è il migliore qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere le finali le fn cs le fortnite championship series ci sono stati sono state in queste settimane di gioco tutte le serie di qualifiche per decretare i migliori team in assoluto che si confronteranno in cinque giorni di puro divertimento scusatemi in tre giorni sto guardando in tempo reale anche di qua abbiamo anche in game direttamente le notizie che dicono avanza da una precedente competizione campioni di fortnite ed arriva alla vetta della classifica di competizione per ricevere un invito a questo evento questo torneo si svolge in due round fase gironi le migliori 100 squadre per regione e gran finale le migliori 24 squadre per regioni nella fase gironi tutte le squadre qualificate parteciperanno ad una singola sessione che dovrebbe essere di 10 8 match in base alla posizione finale della classifica di competizione le sei migliori squadre di ciascuna sessione avanzeranno alla gran finale si comincia il 6 dicembre alle ore dalle 19 alle 22 per poi andare al 7 in tre altri appuntamenti dalle 12 alle 15 dalle 16 19 dalle 20 alle 23 e la gran finale lotto dicembre domenica dalle 17 alle 20 quindi ragazzi ci sarà tanta tanta roba e vi farò vedere anche il cast che non è ufficiale ma si può vedere nella pagina twitter nella pagina ciao twitch practice server comunque e ne parleremo anche durante la live non preoccupatevi che saprete tutto e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi un tweet molto molto interessante di fortnite competitive la pagina ufficiale appunto dedicata ai tornei di fortnite che dice we will be reschedule in this week's platform cash cap to monday december 9 for di us e asia server regions hanno praticamente posticipato nei server dell'oceania e dell'asia la cash cap perché questo tweet è importante perché rimettendo a posto i server in poche parole per posticipare la cash cap era già successo un paio di settimane fa e fu proprio il giorno in cui arrivò l'update adesso molti hanno risposto in sotto a questo tweet ed è di ieri pomeriggio tardi arriva domani la patch notes quindi oggi patch notes patch notes patch notes ci fa ben sperare ragazzi che veramente possa arrivare un update non sarebbe la prima volta che arriva il mercoledì non sarebbe neanche la prima volta che fortnite lo fa uscire senza dirci assolutamente nulla e come vedete alle mie spalle invece parliamo di qualcosa di molto interessante trovato nei file di gioco perché c'è uno dei background più vecchi di fortnite dietro di me perché si parla ovviamente del periodo natalizio dovrebbe arrivare a presto a breve la 14 giorni di fortnite praticamente come è successo l'anno scorso le sfide che per due settimane ci regalano ogni giorno un premio non sappiamo ancora nulla di ufficiale ma invece nei file di gioco è stato trovato ice box praticamente è un qualcosa sembrerebbe che farà parte dell'aggiornamento natalizio e che una volta preso potrà darci in game degli oggetti diversi uno per tipo sembrerebbe snowball palla di neve non sappiamo assolutamente nulla mini shield oppure shieldone oppure le granate quelle ghiacciate che non ricordo male erano in season 7 quelle con la faccia del pupazzo di neve che congelavano i piedi dell'avversario e li facevano scivolare resource sono ovviamente i materiali oppure snowball launcher che dovrebbe essere l'introduzione nuovamente della versione natalizia del lanciagranate anche se non c'è più in questa season il lanciagranate quindi staremo a vedere se sia ufficiale anche lo snowball launcher ho solamente un'idea e lo snowman ve lo ricordate ragazzi il pupazzo di neve quello che quando lo utilizzavi diventavi un pupazzo di neve mi faceva troppo troppo ridere insomma ragazzi aggiornamenti ce ne sono molto pochi cerchiamo sempre di stargli dietro io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao